ciao ragazze, ciao ragazzi top ben più nuovo mukbang guardate qua che cosa c'ho una teglia gigantesca un piatto gigantesco di lasagne e sono molto buone perchè le ho fatte io sono buonissime hanno un aspetto molto invitante e ora me le mangerò tutte per voi fa un caldo allucinante, io mi mangio le lasagne in pieno agosto meraviglioso fate filano perchè dentro ho messo la mozzarella buonissima davvero buone buone era tanto che non vi facevo mukbang, ma le avete chiesto in tanti, poi siccome oggi che è sabato, faccio questa cosa tipo un po' incurvata perchè non se tipo riesco così ecco magari aspettate ecco sto col piatto così così si vede meglio quello che sto facendo sono bocconi straccarichi di ragù mmm adoro è molto stra buono davvero c'è la besciamella c'è la besciamella il ragù il formaggio e la mozzarella mmm buonissimo il rumore che ho sentito dietro il ventilatore buon appetito buon appetito buona cena perché no? buona colazione ci facciamo compagnia insieme a mangiare allora di che cosa parliamo? di niente è veramente troppo caldo è già questo è calda quindi non so se mai riuscirò a mangiare tutta adesso vediamo al limite la do Davide perchè è sempre pronto per fare il bis Davide comunque questo pezzo qua è veramente croccante c'è guardate che bello adesso io sto mettendo tutto con la forchetta senza il coltello mmm buona mmm nel sugo ci ho messo anche la cipolla buonissimo non per vantare il masco sono troppo brava per mangiare veramente sono bravissima mmm come sono abbronzata mamma mia no vabbè degrado questo è il degrado della pasta al forno mmm buona 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 ci metterò un giorno a mangiare la tutta tavolino rigorosamente di Hello Kitty rosa ovviamente comunque ho troppa voglia di andare in piscina ce la faccio più fa troppo caldo ah volevo dire che ieri si è stata poco bene perché si attacco di panico e quindi l'ha iniziato la mattina e poi proprio l'apice è stato la sera si è stata malissimo non mi soffermo molto sull'attacco di panico perché non ho più voglia di dire le mie cose personali però si sta molto molto male adesso dicevo che si sta un po' facciamo un po' gli strascichi però si sta pasticchiando troppo stress ragazzi ho accumulato troppo ho qui la mia buonissima acqua fresca adesso me la bevo perché col caldo non ho voglia di bere bibite ah poi voglio dirvi che appunto sul canale ASMR sarò attiva finalmente produrrò video e ce ne saranno tre a settimana adesso non so bene il giorno lo decido poi una volta che ho deciso il giorno ve lo pubblicherò magari non come copertina adesso si magari come copertina vi pubblico quando saranno i giorni e fatemi sapere se volete anche un giorno bonus una live in ASMR da fare sul canale ASMR che sarà rigorosamente fatta in ASMR ASMR appunto io sono già piena però c'è che io mangiamola tutta perché questo caldo veramente fa troppo caldo per mangiare come ho detto fa troppo caldo alla Toscana l'ho detto quindi oggi è stato un video per domani video all fritto misto di cose che ho comprato io nei negozi quindi c'è un po' di tutto Pandora che è quello il regalo che mi ha fatto Davide Tally Whale Tiger Casanova Domestop e Funko Pop e poi il mercato spero di non dimenticarmi niente penso, vabbè comunque vedete nel video domani sul canale di Coppia c'è un video che ha fatto Davide andatelo a vedere non vi dico che cos'è è un video che ha dovuto fare lui di getto ovviamente io gliel'ho montato però andatelo a vederlo che è uscito prima di questo video è anche buono fatemi sapere se avete cenato o pranzato insieme a me e cosa avete mangiato di buono non si staccano le cose sono i pezzi interi la volta non mi prima Grazie a tutti. Sa, ma si dai, mi sa che riesco a finirlo, sto piattone enorme, per la fine è buona. Lasciatele antiepidire perché è bollente e non ci avrei mai fatta a notare. Sempre rimanendo in tema ASMR, fatemi sapere che cosa mi piaceva vedere di più. Se tipo un roleplay, un whispering, un video magari not talking, tapping, non lo so. Fatemi sapere, oppure un inaudible, mettetevi voi cosa preferite. Oppure che magari vi lega qualcosa, il soft spoken, fatemi sapere voi. Così cerco di accontentarvi un po' tutti, ecco. Insomma. Non è male che oggi non ho mangiato niente, così mi sono tenuta leggera per mangiare sta bomba calorica. Non è freddo. Non è freddo. Non è. Non è freddo. Bene. Sono riuscita a finire il piatto gigantesco, come potete vedere, ho divorato tutto. Molto bene. Ora mi bevo ancora un po' d'acqua. Guardate quant'è acqua ho bevuto. Era piena, era troppo caldo. Troppo. E ora mi tolgo il tavolino. Vado a pulirmi bene le mani e la bocca. E poi vi monto subito questo video. Conto di caricarvelo per le 8. E niente, vi mando un bacione. Grazie a tutti i nuovi iscritti, iscritti di sempre. Spero che vi avevi fatto compagnia. Che avete passato questo tempo pranzando o cenando insieme a me. E noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacio e alla prossima. Ciao.